ma quindi oggi niente non possiamo giocare di servire oggi è ma come facciamo siamo 32 e siamo io già poi direi che c'è parte o c'è chiediamo sul gruppo c'è anche di tu che ti metterà fa sotto carico ma vi chiedo anche io sì ma una partita non stiamo cercando i servizi privati è una partita si è sicuro che l'interno del tema guarda due minuti e 11 sam e schismi ma perché c'è un voto di gente che si è in attesa del sol mi sono messo la risoluzione normale vediamo un po come mi trovo ha comunque la risoluzione in quattro terzi dopo tre minuti quella in quattro terzi si può usare però tipo nelle competizioni ufficiali non si può usare ti posso a me schermi fanno sticati è solo una questione voglio vedere un attimo come mi trovo volevo cioè volevo stimare non volevo stimare questa qualità no con quattro terzi non me l'ha troppo su stream mi va a 30 fps no io vado vabbè c'è il computer che fa 240 fps fissi quando uno stream quindi quando stream o sui 120 200 così e tango la fibra quindi dove deve stimare bene ma si ve lo conosce la faccia io che fa schifo la mia si bravo non trovi settings giusti ma do senti però che non vuole si faccia una bella proposta facciamo sto cazzo di parco giochi perché mi sono rotto le palle ma anche per due giochi fare così e invitami ero quasi piaccata prendermi il pomodoro è perché si sblocca al secondo stile lo so quello si è figo però se deve scegliere trovo ci cosa prende meno shopping prenderei abstract no io non so quale di a rex o l'altro che sarebbe chi sarebbe chi sarebbe ok lo so se non c'è nessuno per riserva privata invito lui che è abbastanza forte sì ma cos'è sta roba a chi ora escono le sfide oggi le tre giusto no è scontro due giorni come non si sblocca non è giovedì che escono è buono cambiato crede coglioni questo sfide c'è scritto sblocca in voi giorni però che vale volevo il coso giusto i due giorni nel cazzo lo aspettavamo ma lo fa qui ci sono magari trova una partita anche basta è nulla che prova a terra da leader perché lascia il gruppo magari sono io non penso vabbè quando mi fa mettere pronto ciao ciao Grazie a tutti. A Tometo scende tanta di quella gente, mamma mia. Che palla. Troc mi hanno detto. E' stato, non sono le duo e le scude che stanno esplodendo. Porco i giochi va. Su quelle altre cose che stanno per esplodere male. Ma anche te da quando sei sul bus, il proprio giocatore dice ha ringraziato la tista. Che poi come si fa, bro? Stai. Eh? Che detto? Oh bro, mi senti? Eh mi sa che non mi senti più. Non mi senti. Non mi senti, bro? Oh. Che dupal. Ci sei? Una, due, tre. Una, due, tre. Un po' Noi, 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 noi Noi, noi, noi Noi, noi Ok, ok. 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 Oh c'è Matteo online C'è il video Però non so se è lui o suo fratello Se è suo fratello penso che non entro Bella Ciao ragazzi Oh chiudi l'amore Oh niente Vabbè Hai ringraziato l'autista del bus Sì Non so perché Dove andiamo? Che si è buttata Forca puttana Sbagliato Vabbè 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 E' pieno Cosa E' pieno Eh Dio karana non ha già visto un tipo qua io sono la finita io c'ho un cazzo c'è il punto c'è un posto tipo credito ho visto io devo scappare non ho vedato che stanno le armi vai vai ma dopo che bella Dammi col carro Oh, dietro di voi, dietro di voi, dietro la casa Dietro la casa Eh, c'è un materiale No, 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 no No, no, no No, no, no Mi sono finiti colpi No È piccanata, è piccanata